Buongiorno ragazzi! Anche oggi vi porto a vedere un bellissimo bungalow con giardino privato. Seguitemi e andiamo a vedere insieme questa bellissima proprietà. Ed eccoci ragazzi dentro questo bel bungalow con questo bel giardino privato. Questa è una doccia da esterno, piccolina. C'è l'irrigazione automatica. Quella è la porta d'ingresso per entrare al salone. E quello che vedete lì in fondo, lì dentro c'è il motore dell'aria condizionata. Ed eccoci dentro al bungalow. Questa è la sala. Qui hanno approfittato del sottoscala, qui dentro c'è la lavatrice. E la apro, ve la faccio vedere. E voilà! Hanno approfittato di tutti gli spazi. Questa è una bella cucina completa. Questa porta è la lavastoviglie. Quattro fuochi. Qui c'è un lucernario, quindi è sempre molto luminosa. Camera da letto. Con aria condizionata. E un bel armadio a muro. E il bagno completo. Ora saliamo. Saliamo le scale e andiamo a vedere il soppalco. Qui nel soppalco hanno creato una seconda camera. Per gli ospiti più che altro. Comunque c'è l'aria condizionata anche da qui. E questa è la vista del bungalow dall'alto. Andiamo a vedere la zona comunitaria. Qui c'è una bella piscina. Eccola qui. Che l'hanno ristrutturata qualche anno fa. Tutta questa zona. E qui c'è una zona per i giochi dei bambini. C'è un campo da basket. Lì. Qui per giocare i bimbi. Insomma, proprio un bel complessino. Super tranquillo. Bene ragazzi, anche questo tour è finito. Il bungalow che abbiamo appena visto, che si trova in un complesso molto carino, in stile tropicale. Lo affittiamo a 1250 euro, con tutto incluso. Condominio, acqua, luce e internet. Lo possiamo affittare anche per brevi periodi, tipo 3 mesi, 4 mesi, fino al massimo proprio 5 mesi. Siccome ci sono tante richieste, purtroppo abbiamo dovuto dire no a tanti clienti per 3 mesi. Questo per il momento è disponibile. Al prossimo video. Ciao ciao.